Salve e benvenuti in Dr. Spy. Oggi vi presentiamo il nostro kit One Ultra. Questo kit serve per eseguire bonifiche professionali TSCM. Con questo kit avrete tutti gli apparati e gli accessori necessari per eseguire un servizio di bonifica completo. Il kit è composto da diverse valigie. Nella valigia primaria, sul vano, troviamo anche gli accessori. Quindi troviamo uno scomparto con attrezzi, quindi canciaviti, pinze, tutto quello che serve per smontare e visionare. Troviamo specchietti per l'ispezione, guanti, camice, torcia ispettiva, pinzette ispettive e troviamo anche un dispositivo per testare la corrente a bassa tensione. In questa valigia invece troviamo l'asta telescopica che serve per ispezionare veicoli, uffici e aziende. Con questo dispositivo possiamo visionare i veicoli, quindi vedere se ci sono GPS sotto l'abitacolo o all'interno. Abbiamo anche un'asta telescopica per ispezionare controsoffittature all'interno di ambienti. Poi abbiamo il nostro rilevatore analogico e digitale che ci permette di rilevare tutte le bande mobili digitali fino al 5G. Quindi riusciamo a rilevare qualsiasi segnale dal GSM fino al 5G, compreso Bluetooth, Wi-Fi e frequenze digitali. Poi abbiamo il rilevatore analogico da 0 a 10 GHz per rilevare tutti i segnali analogici. Analizzatore di spettro per andare a individuare e verificare meglio le frequenze rilevate. Possiamo collegarlo col software di gestione a un PC per eseguire un'analisi più specifica. Poi abbiamo il rilevatore giunzionino lineare che ci permette di rilevare qualsiasi dispositivo acceso o spento come il registratore di auto e tutto quello che non trasmette. Poi abbiamo il rilevatore con monitorino che ci permette di eseguire un'ispezione per quanto riguarda le microcamere Wi-Fi, wireless e IP. Quindi riusciamo a individuare qualsiasi microcamera che verrà riportata sul monitorino. Quindi dal monitorino possiamo andare a vedere la microcamera che abbiamo trovato. Poi abbiamo il laser ottico che ci permette di individuare microcamere acceso o spento, andiamo a individuare proprio l'ottica della microcamera. Termocamera che ci permette di individuare variazioni di qualsiasi microspia, quindi qualsiasi microspia noi possiamo andare a vedere una variazione che genera di calore e la individuiamo. Poi abbiamo il videoscopio portatile con sonda da 5 minuti che possiamo utilizzare per eseguire ispezioni fisiche. Con questo kit possiamo eseguire una bonifica totale perché possiamo controllare qualsiasi dispositivo acceso, spento, analogico o digitale, possiamo rilevare dispositivi che non trasmettono, possiamo rilevare dispositivi spenti, possiamo individuare ed eseguire una bonifica ispettiva visiva. Il kit è disponibile presso la Dr. Spy direttamente sul nostro sito. Vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.